No, dovrebbe essere a posto, via un po' No, dovrebbe essere a posto Eh, a voglia essere a posto No, dovrebbe essere a posto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non siamo ancora al lupo al perto. Grazie a tutti. Eccoci qua. Quell'ambiente è un po' cambiato. Quanto abbiamo? Oh, non abbiamo un più senno. Ah, no set. Ah, no set. C'è questa cosa qui che non la voglio fare. C'è un po' cambiato. C'è un po' cambiato. C'è un po' cambiato. Adesso in questo momento fare complimenti di ogni tipo. Ragazzi. 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 qui. Qui. Abbiamo un fatto. Eravamo arrivati qua. qua. Sì. E adesso noi ritriamo indietro. E' tutto bene dai. E' tutto bene dai. Allora. Ma andiamo qui. qui. Perché ci sono delle cose interessanti del tipo che la mia schermata di Windows è andata a buttare. qui ci sono delle cose interessanti che non abbiamo ancora fatto. E che dobbiamo fare? qui ci sono delle cose interessanti che non abbiamo ancora fatto. qui ci sono delle cose interessanti che non abbiamo ancora fatto. Strano eh? Che nessuno ti viene a dare il cambio. qui ci sono delle cose interessanti che non abbiamo ancora fatto. che non abbiamo ancora fatto. E' un cambio nel nostro be' uomo. E' un cambio nel nostro be' uomo. Mamma mia. Mi mancava il giocare. No. Ah sì? Ho fatto lascia. A innesco. Che è che fa le cose di fuoco. Ragazzi Io sono un maestro Eeeh Sì, sono un maestro Quindi sono rimasti uguali No, vai a to Oh Mano, un po' Uiii Ok Ok Questa zona ci siamo già stati, faticamente. Ah, dovremmo chiamare la prossima il lupo Alberto, usa lo stealth. Alla prossima. Alla fanguini. Facciamo così. Non ci dovrebbe essere nessuno di qua, però si sa mai. Alla prossima. 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 E via. Ok, qui di qua non c'è un cazzo. Alla prossima. Abbiamo capito bene. Alla prossima. Alla prossima. prima ora non lo siete più ragazzoni miei divertente mi ero mancato e il problema è che questo gioco andrà avanti 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 perché ovviamente ci sono tante cose da fare che bello che si può bere sottacco è una cosa un po' ok non si dovrebbe in realtà però ah si i ponti hanno fatto adesso oh perfetto perfetto nel mio motto è chiusa saldamente penso a te si nel fossato quale fossato quale fossato chiuso sicuro da questo gioco è vero sì quindi Betta il niente il betta london addirittura cagato addosso Mio addio che bei salta col vatici fai un lupo aperto vieni un lupo Grazie a tutti. Intanto non ho fatto un cazzo, quindi qui non ci dovrebbe essere nessuno. Questi sono i corvi, però. Sì, questi sono i corvi. Oddio. What's that? What's that? Oh! Oh! Ma quanto oro! Quanto sen! Olio! Che sta cosa dell'olio? Mi interessa. Che è? Ah! Ah, si è morto adesso. No, se cado muoio. Lo so pure io. Ah! no niente non ho fatto che l'ho potuto architettare è una cosa interessante ah ma questo qua sconfitto ok sento che abbiamo abbiamo rispettato l'area spero che non stiamo facendo i giri per i cazzi nostri eh ma un po' uh chi è come hai paura chi è oddio coi No, stia. Ciao. Non è vero, non è vero. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. 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 Mi piace Allora 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 Ehi ciao 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 Chi? Chi è? Ma perché tutti? Ahhhh Ehi 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 Nooo Ma come cazzo hai fatto Aia No Comunque Uh Come si vede bene lì No Ah ok Meno male Fatti sotto Puttana Ehi 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 Ah Così faccio Ehi 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 Nooo Escazar Nooo Escazar Nooo Escazar Oh Oh! Beh beh, va benissimo, va benissimo Oh! Oh! Mamma mia! Oh! Ciao! Oh! 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 Daaaang Nooo Vabbè Ciao Non ci vede un cazzo però va bene Oh Oh Bene Ora possiamo procurarci meglio Uh Uh Ad amantita dai Shortcino Shortcuccio Credo I don't know Oh Hmm E' morto Ciao Ciao Un piacere Ah Puttanella Nooo Do Guarda Non volevo Qui Ecco ti Nooo Oh Caccareno ce l'ha regalato Fortezza di ferro Un ventaglio di ferro da lontano occidenta Eh Adattabile alla patetici nuova Può diventare uno strumento prostetico Utilizzabile rispetto ai deviare frecce e proiettili E' stato tramandato da 10 nazioni fra gli assassini del tempio Sempu Nonostante l'eccessivo peso potrebbe rendere poco pratico Vero Vero Come? I cannonieri I cannonieri Ci siamo dimenticati I Mi E I Grazie a tutti. 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 No. No. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh ma porco. Ok. No. 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 Oh. Oh. No. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. No! Ah, non c'è abbastanza... Ah, che farlo. Però l'avrei portato in vita di nuovo. Non c'è abbastanza... No! Oh, bitch! Ok... 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 Eh beh sì Ah 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 Is that a treasure? I remember my story from her mother I have heard that she died What are you doing? Don't you guess you're going to die with me Grazie a tutti. 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 No... Grazie a tutti. 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 Ok... Grazie a tutti. Ok... a tutti. 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 Ok, ancora un altro attivo Ancora il finale Esatto 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 Esatto